L'approvazione avvenuta giovedì, ma ancora la delibera con cui i comuni divigevano prevede esenzioni e riduzioni nel pagamento delle mense scolastiche per i bambini provenienti dall'Ucraina non è stata resa pubblica. Al momento si conoscono solo le anticipazioni rese dal sindaco Andrea Ceffa attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook, durante la quale si specificava che le esenzioni potranno avvenire soltanto tramite un passaggio ai servizi sociali. Un aspetto questo che ha in parte tenuta viva la fiamma delle polemiche esplose nelle scorse settimane, in quanto molti si aspettavano che l'esenzione per chi scappa dalla guerra fosse totale e senza condizioni. Il passaggio dai servizi sociali è stato motivato dal sindaco con la necessità di registrare i profughi che arrivano sul territorio. Molti infatti non si recano al commissariato come sarebbe d'obbligo fare, creando problemi nell'organizzazione dell'accoglienza. Una criticità segnalata anche da comuni più grandi come Milano, ma avvigevano viste le polemiche suscitate dai ritardi nell'adozione dei provvedimenti di esenzione, si sono sollevati malumori nell'utilizzare la possibile gratuità della mensa scolastica come leva per incentivare alla registrazione che sarebbe invece un atto dovuto da parte di chi arriva dall'Ucraina. Intanto il comune di Mortara ha reso esecutivo il suo provvedimento con cui si esenta in maniera totale e senza condizioni tutti i bambini che arrivano dall'Ucraina e che frequentano le strutture scolastiche cittadine, previa verifica delle vaccinazioni obbligatorie, dal pagamento di mensa, retta dell'asilo, pre e post scuola, trasporto scolastico. La questione dei fondi è stata così risolta dalla giunta guidata dal sindaco Marco Facchinotti. Per quanto riguarda le rette, i nuovi iscritti provenienti dall'Ucraina vanno a occupare posti che in questa fine d'anno scolastico erano rimasti vacanti e quindi in loro assenza non ci sarebbero comunque state entrate. Per le spese invece nel testo della delibera si afferma che trattandosi di forniture di quantità marginali rispetto a quelle già previste, si trova copertura negli attuali stanziamenti di bilancio. Come a dire che offrire l'asilo e la mensa ai bambini ucraini costa una cifra talmente ridotta rispetto ai servizi già previsti per la popolazione locale da non dover essere necessario mettere mano al bilancio.